Per quel poco che ho visto, quando non c'è stata scelta, so che magari adesso è una cosa prematura, ma siccome mi sentivo che tu non venivi scelta, avevo detto alla redazione, nel caso... Ti sono sincero? Sì, sì. Sapevo già, puoi chiedere, ho detto, cioè, ma sapevo che... Sì, lui è da mo' che chiede... Ma lo sapevi... No, lo sapevo da me, perché io con lui non ho mai parlato. No, no, già lo pensavo, sì. Che parole lui ti ha gufato, capito? Se magari non lo sceglie, così viene da me. So che magari adesso è un po' prematura questa cosa, però se a te fa piacere, per me, via del tuo tempo, capisco comunque, figurati. No, non è tanto il tempo, perché io sono comunque pronta a rimettermi in gioco, perché giustamente, secondo me, una delle cose più importanti che abbiamo è la possibilità di scelta. Quindi lui ha fatto la sua scelta in base a quello che sentiva, quello che provava. Ma io non sto parlando del passato. No, no, ti sto dicendo... Spiazzata. Sono spiazzata. E spiazzata, sì. Sto cercando anche le parole. Boh, io sono molto schietta. No, cioè, devi. Non sono interessata. No, tranquillo. No, tranquillo. No, tranquillo. No, tranquillo. Grazie a tutti.